Buona serata con Muoversi in Toscana, in studio Mauro Ciutini. Perdita di carico in A11, la Firenze e Pisa, siamo tra Prato Ovest e Pistoia, rallentamenti in entrambe le direzioni. Personale su strada in FIPI lì tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione di Livorno. Sempre in FIPI lì, code allo svincolo la strassigna provenendo da Firenze. E a Firenze traffico rallentato sui viali di circonvallazione. Ci spostiamo sulla vista Iberina, una riduzione di carreggiata tra Val Savignone e Canili in direzione di Ravenna e c'è sempre la strada chiusa al traffico per un pericolo frana sulla 12 della Betone del Brennero, tra Cutigliano e l'incrocio a Betone. Chiudiamo con i lavori a Firenze, via Lungola, Africo, restringimenti di carreggiata nei pressi della rotatoria con Viale Duse. È tutto, Muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Grazie a tutti.